L'Ateneo dell'Aquila ha inaugurato oggi il suo anno accademico alla presenza del ministro della salute Orazio Schillacci, amico del rettore Edoardo Aless ed ex docente dell'Ateneo Aquilano, dove ha avviato la sua carriera un Ateneo in crescita in salute, così il rettore. Stato di salute ma anche prospettiva e criticità nella sua relazione, nel corso del 2023 sono state reclutate 120 unità di personale, l'Ateneo ha 72 corsi, molti internazionali, con l'ultima in ingegneria delle infrastrutture. È operativa la convenzione con la SNAPER, la scuola nazionale dell'amministrazione, buoni risultati anche nei vari ranking internazionali. La nota dolente è il mancato recupero di alcune strutture di proprietà che ancora non rientrano in possesso, altro tema centrale il PNRR. Il rapporto tra città e università è sempre complesso, per questo l'accurato appello del rettore bisogna sempre far rete con le istituzioni del territorio. I cittadini ha chiesto di accettare gli studenti come una risorsa, nel suo discorso anche il ricordo per l'ex rettore Luigi Bignardi e per tutti gli studenti dell'Ateneo che non ci sono più. La presenza di Orazio Schillacci, Ministro della Salute, ci riempie di giochi. Orazio è una persona che ha avviato la sua carriera in questo Ateneo e che molto volentieri è venuta a trovarci. Parleremo di tante cose, non solo di risultati ottenuti, parleremo anche di prospettive e di preoccupazioni, perché alcune preoccupazioni vi sono e fanno riferimento soprattutto a quello che avverrà alla fine del PNRR oppure ad alcuni rapporti tra l'università e la città, quindi questi argomenti saranno come dire analizzati durante la relazione con la speranza che servano da base per risolvere una serie di situazioni che preoccupano.